e madrina dei contenuti che ci parla Miriam Bertoli, ovazione per favore, che ci parla di creare una strategia dei contenuti per un freelance. Vai Miriam. A lei, grazie allora, intanto buon pomeriggio mentre le ultime persone si siedono. Io chiedo a Fabrizio di far partire per favore il video. Grazie Fabrizio dalla regia, meraviglioso. Adesso sono brevi lezioni video di marketing digitale, con una particolarità, cioè essere ambientate nella mia città, Venezia. L'idea per le Venice Lessons mi è venuta un po' di mesi fa, una sera, tornando a casa, dopo una giornata di lavoro, stavo passeggiando in mezzo a questi palazzi. Così mi sono concentrata per un attimo a pensare a quanto sia forte e affascinante il contrasto tra la storia di Venezia, i suoi secoli che sono immobili nei palazzi che ci circondano in questo momento, per esempio, la lentezza dei suoi trasporti e dall'altra parte quello che è il mio lavoro di consulente di marketing digitale ogni giorno. E allora ho pensato di mettere insieme Venezia, la tradizione, la storia, con il marketing digitale, l'innovazione, il nuovo assoluto, in queste brevi lezioni video, che hanno l'obiettivo di trasmettere conoscenza e di far arrivare i concetti principali del marketing digitale a chi non è ancora un esperto, ma vuole saperne di più. Spero quindi che le troviate interessanti, divertenti, soprattutto utili. Quindi buon marketing digitale, buone Venice Lessons e saluti da Venezia. Ecco, grazie. Allora, questo video è il primo video che ho girato per le Venice Lessons. Che cosa sono le Venice Lessons? Come la presentazione ha anticipato, sono brevi video lezioni di marketing digitale che ho scelto di girare a Venezia. Questo qui è il 2014. Insomma, cinque anni fa ne ho girate 10, fino ad oggi, e le prossime sono in uscita, perché non spoilero, però insomma le abbiamo girate poche settimane fa, la prossima serie. Ed è un progetto di content marketing per freelance. Quello che io faccio per le aziende è spiegare e aiutarle a usare al meglio i contenuti dentro una strategia digitale. Qui l'ho fatto per me. E allora mi sono immaginata di condividere oggi con voi perché, che cosa ha funzionato, che cosa no, che cosa ho imparato, che cosa rifarei, che cosa ci aspetta nel futuro. E di farlo con una serie di oggetti, perché sulle slide, sulle slide queen, mi fanno i miracoli. E allora ho detto, aspetta, se non provo al freelance camp una roba diversa, quando è che la provo? E quindi comincio a raccontarvi questa storia partendo da un oggetto, che è qui dentro, ed è questa gondoletta, questa gondoletta qui, ok? A Venezia ne avrete viste migliaia, immagino. Questa qui che cosa ha di diverso? Ha il fatto che funziona energia solare. Quindi qualcuno, dopo anni, 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 anni di gadget tutti uguali, ha deciso di metterci una piccola innovazione, per differenziarla, è il motivo per cui sulla scatola possono scrivere 12 euro invece di 4 euro, un pezzo di plastica alla fine, tutto questo. E il motivo per cui ho creato le Venice Lessons è molto simile al motivo per cui qualcuno un giorno si è inventato di mettere dei cipetti per far andare, far dondolare una gondola energia solare. Differenziarmi, fare qualcosa di diverso. Il content marketing spesso a che cosa vi serve, che cosa vi può servire? A uscire da, diciamo, un assess, specialmente in alcuni settori. Chi fa social media manager? Ok. Ci sono tante persone che si propongono come social media manager. Come faccio a differenziarmi? Come faccio a far sapere esattamente quello che faccio io e perché dovresti scegliere i miei servizi e quello che so fare, differenziarsi è importante. E anche nel mio caso è stato un modo per mettere insieme, come dico in quel primo video lì, cose molto vecchie, come abitare in una città come Venezia e le cose super nuove con cui lavoro, con cui molti di noi lavorano. Con la chiave che è proprio quella di prendere gli essenziali di un marchio, in questo caso il mio marchio, e trovare un modo creativo per parlare di quello che faccio senza farlo per forza dietro una scrivania con tutti i libri ben disposti. E qui veniamo al come si fa. Da dove nasce l'idea? Da dove nasce l'idea? E per l'idea io ho recuperato... Facebook ogni tanto ci ricorda da quanti anni usiamo la stessa maglietta, no? Quando ci fa rivedere le foto che forse ti piacerebbe ricordare. Questa è la maglietta che avevo in quella prima Venice Lesson. È una maglietta tra l'altro a cui sono molto affezionata, righe sempre. Da dove nasce l'idea? L'idea nasce appunto da un'analisi e dico come faccio a far sapere di che cosa mi occupo? Come faccio a sfruttare un brand che è quello della città in cui abito, senza diciamo scadere in qualcosa di già visto e con qualcosa che ha poco budget? E questo è un altro tema. Spesso content marketing per freelance è low budget. Io non ho il budget di un'azienda che fattura 10 milioni di euro e posso cominciare a fare delle produzioni video super elaborate o avere una redazione che scrive. E quindi serviva qualcosa che avesse all'interno tutti gli elementi per portare viralità, quindi per poter viaggiare anche senza grossi investimenti alle spalle. Quella maglietta lì che cosa rappresenta? Rappresenta un'idea, una sera scendendo dal treno dopo una lunga giornata a Milano dico eppure io questa roba che so tutto il giorno a parlare di cose super moderne e poi scendo qui e andiamo tutti piano, camminiamo e mi vedo dei palazzi che insomma c'erano ancora prima dell'energia elettrica e anche molto prima. Queste due cose le devo mettere insieme e spesso è questo che funziona anche in tante iniziative di content marketing e che possono fare la differenza nel modo in cui un freelance si racconta e racconta che cosa porta, che cosa lo differenzia. E lì ci sono due, qual è l'indicazione qui? Sfruttare bene gli asset che abbiamo a disposizione, quindi che cosa avete che può davvero contraddistinguere voi e aiutarvi a raccontare perché siete diversi, che cosa fate meglio degli altri o in modo differente. E poi quella maglietta lì mi ricorda anche come dall'idea siamo passati poi all'esecuzione, che è stata raccontando questo progetto a una persona che ho incontrato insegnando nell'aula di un master e che mi ha aiutato con i primi video. Il suo compagno era videomaker e gli ho detto guarda io ho questo progetto però devo trovare la modalità per farlo diventare effettivamente un momento in cui si gira e poi c'è una produzione e poi viene diffuso. Quindi un tema è capire bene quali sono i nostri asset e che cosa davvero vi differenzia. E il secondo è costruirvi una rete di relazioni per cui questo progetto riesce a diventare realtà, quindi qualcosa che non è più solo un'idea. Quante idee abbiamo? Quantissime. Quante cose vorremmo fare? Milioni, no? Però poi bisogna fare e quello spesso significa circondarsi di relazioni di valore. E quindi con la mia amica Katia, contatto il gondoliere, giriamo la prima serie di Venice Lessons. Passiamo quindi alla fase di esecuzione. Com'è stata questa fase di esecuzione? È stata un po' come... Chi lo sa? Che cos'è questo? Vai. Sì, fantastico. Questa è una forcola, ok? Questa è la forcola in particolare di una San Pierotta, non ho portato quella di una gondola perché sono delle robe che non mi ci sarebbe stata in valigia. E questo qui è un oggetto tanto prezioso, questo in particolare è di noce, però se lo vedete da vicino è consumato perché è un oggetto insomma bello solido, però che deve funzionare. Quindi è solido ma non è una roba, come dire, frivola. E la fase di esecuzione di un progetto di content marketing per un freelance, che quindi deve essere sostenibile per un freelance, che come abbiamo visto stamattina contemporaneamente è il suo commerciale, il suo marketing, la sua forza produttiva, non commercialista, però insomma la sua amministrazione per tanta parte, deve essere qualcosa che funziona come quella forcola lì. Cioè è bello, è solido, è funzionale, ma richiede il tempo e gli investimenti giusti. Questa solidità che cosa ha significato? Voi sentite un fischio? Io ogni tanto sento fischiare. Ok. Questa solidità ha significato un numero giusto di video. Avrei potuto dire che me ne facevo dieci a stagione. In verità ne abbiamo fatti quattro per tre stagioni e poi le prossime sono in uscita. Il tipo di produzione, mi sarebbe piaciuto tantissimo poter avere cinque persone, due che riprendevano da terra e tre, però non era quello che in quel momento potevo fare, forse nemmeno mi serviva. E poi diciamo una costruzione di questi video che è stata con anche un montaggio fatto abbastanza bene, forse non bello come quello che mi avrebbero fatto i VD, però in quel momento lì era tutto quello che potevo, in ogni caso, permettermi. Questi video hanno fatto dei giri che io non mi sarei mai aspettata. Ci sono colleghi che li usano per aprire delle sessioni di formazione, perché comunque sono simpatici per rompere il ghiaccio e ne ho capito davvero la potenza. Quindi questo è un altro passaggio. Nel momento in cui condividete contenuti succedono cose, spesso succedono cose che vanno oltre quello che vi sareste aspettati, perché poi le persone ne fanno un utilizzo che non è quello che magari necessariamente vi aspettavate voi quando avete pubblicato quell'ebook oppure quel video in cui spiegate in particolare, o quel post in cui spiegate come essere totalmente compliant per GDPR, eccetera, eccetera. La vera potenza, l'ho capita, comunque diciamo era anche uno dei motivi per cui investivo nel mio marketing. Ricordatevi che è bellissimo fare freelance, ma l'hashtag è sempre fatturare, ok? Quindi questo a volte si dimentica quando si parla di contenuto perché sembra una cosa, diciamo così, eterea che si fa per il piacere di... Ma poi siamo delle piccole aziende, quindi dobbiamo arrivare al nostro risultato. E uno di questi video è stato oggetto di conversazione nell'incontro con un amministratore delegato. avevo già parlato con la marketing manager, quindi io comincio a spiegare a lui che era quello che doveva firmare, perché secondo me dovevano fare tutta una serie di scelte, quindi unificare due siti perché avevano un e-commerce legato dal sito principale e così via. E lui mi dice, non si preoccupi, non serve che me lo sia spiegare, io ho già visto le sue lezioni in gondola. Cosa che io dico, tutti potevano arrivare, no? Hanno totalizzato, tutto sommato, circa 14.000 visualizzazioni che non sono... Mia figlia mi prende in giro perché dice, uno youtuber 14.000 lo fa, appena fa pubblica, vum! Però a me sono servite, cioè hanno generato reputazione e hanno generato anche business. Con un passaggio importante. Costruire contenuti molto solidi. Questo è un altro concetto. Il content marketing per freelance deve comunque essere in linea con il posizionamento che volete mantenere. Se poi avete piacere di andarvi a guardare i video, il contesto è divertente, è il giro in gondola, è San Marco un'altra volta, è Rialto al mercato un'altra volta, però non c'è niente da ridere sui contenuti. Su quello che dico è tutto molto ben quadrato, molto provato e molto solido. Questo è un altro passaggio importante. Se decidete di usare l'ironia, sappiate che va dosata e deve essere comunque parte del vostro brand. Quindi avevamo i video, la parte successiva è la distribuzione. Per la distribuzione, nel momento consigli della lettura, c'è questo libro di Austin Kleon, non so se lo conoscete, Semmina come un artista. Il suo precedente era Ruba come un artista. In Semmina come un artista lui che cosa dice? Sono libri molto belli perché insomma è un illustratore. dice qualcosa che posso riassumere con, racconta man mano quello che fai, porta fuori quello che fai, racconta, non essere troppo geloso di quello che sai fare e vedrai che poi la reputazione e i risultati vengono di conseguenza, che secondo me è valido per tutti i freelance. Come faccio a far sapere che sono bravo? Posso dirlo, meglio ancora se lo dicono i miei clienti. Posso provarlo mettendo fuori dei pezzettini di quello che so. A volte è il processo quello che so fare. Per la distribuzione quindi ho delle prime soprattutto, le ho condivise sui miei social media, non avevo ancora la newsletter al tempo, grave errore. Girava una battuta della serie 2000, iscriviti alla mia newsletter, 2012 seguimi su Facebook, 2019 iscriviti alla mia newsletter. Perché quello è un asset che rimane a voi, insomma, indipendente dalle mode del momento. Quindi Facebook, poi l'ho sul sito, dove è il punto in cui tuttora ricevono maggiori visualizzazioni. L'ho inserita come contenuto multimediale associato al mio libro. Cosa a cui non avevo pensato. Quindi un passaggio importante sulla distribuzione del vostro contenuto è non datevi limiti, nel senso che non è che una volta che le ho postato, il post, il blog che volevo insomma condividere, ho pubblicato l'ebook. Spesso il contenuto è qualcosa che potete riutilizzare, riconfezionare. Non tutti i contenuti, ma molti hanno una vita davvero lunga. Quindi ragionate sui contenuti che avete creato e avete a disposizione e vedete se c'è un altro modo per valorizzarli, un altro modo per farli girare in altri network a cui magari non avete ancora pensato di distribuirli. Una cosa da migliorare, alcune le ho promosse troppo poco, quindi le ho pubblicate, le ho lanciate su YouTube e lì sono rimaste e poi dicevano ah ma non sapevo che avevi postato degli altri video. Questo è un'indicazione importante, il tema della distribuzione, perché per chi si occupa di marketing basato sui contenuti è sempre più importante. Quindi anche la considerazione di metterci sopra dei piccoli budget per farci pubblicità o pensare a una piccola attività di ufficio stampa, anche piccola, però può far sì che fioriscano improvvisamente e arrivino ancora più lontano. Prossime cose. Allora le prossime cose, per le prossime cose parto da questi fogliacci qua, che sono come preparo questi video. Questi in particolare sono gli script delle prossime Venice Lessons, quindi delle prossime puntate che abbiamo girato due settimane fa a Burano, con un'amica Angela, che forse mi sta guardando. Ciao Angela. Qui qual è il passaggio futuro? È un altro elemento che secondo me è importante in una strategia di contenuto. Dopo quattro anni, perché le ultime sono di quattro anni fa, ero davanti a un bivio e potevo rifarle uguali, quindi richiamare lo stesso gondoliere, rifare lo stesso giro, oppure dare un twist, insomma, qualcosa di differente. Ho scelto questa seconda strada, che non è stata semplice, perché l'isola di Burano ha tre canali, molto piccola, e tutte cose che ho scoperto, insomma, strada facendo, non ci sono i gondolieri. E quindi ho dovuto trovare una remiera dove le persone vanno a vogare e chiedere alle persone iscritte se mi venivano ad accompagnare per fare questo giro. Anche qui l'altro passaggio fondamentale è se avete un progetto di contenuti, non date per scontato che sia buona la prima. Funzionano molto le serie. Sempre di più siamo abituati a vedere serie. Lo troviamo anche rassicurante. Quindi se trovate un bel format, se trovate un bel format, non mollate la presa quando funziona all'inizio, perché può essere davvero un potenziale e qualcosa che poi, con meno sforzo, nel senso che non dovete rinventare tutto da zero, lo potete riproporre. E poi lì, è chiaro, differenziandolo più o meno. Queste Venice Lessons di Burano, la prima esce la prossima settimana, quindi se avete piacere di vederla, la trovate su www.miriambertoli.com. Che cosa imparerò da questa qua? Non lo so ancora. Saranno comunque dei nuovi video. L'altro passaggio fondamentale, diciamo l'ultima cosa che condivido nell'aver imparato girando questi video qui, è che appunto è fondamentale l'idea che ci sta alla base, che deve essere molto ben costruita sui vostri obiettivi, quindi su dove volete arrivare, che cosa volete fare. Questi sono video gratuiti, quindi il tema non era monetizzare immediatamente, ma era portare fuori un brand e cominciare a incuriosire su quello che so fare. Due, l'importanza dell'esecuzione. Non è facile, in giornate che hanno in mezzo un miliardo e mezzo di cose, portare a terra un progetto fino ad averlo sviluppato. Tre, network. Le prossime, se avrò budget, sicuramente vorrò farle in modo ancora più professionale rispetto a queste. E quattro, poi, appunto, se c'è qualcosa che funziona, pensate a come riproporlo e farlo crescere, e non mollatelo subito, perché i contenuti poi hanno la grande capacità di lavorare per voi, per noi, nel tempo e, insomma, e negli anni, e fare dei giri che spesso neanche noi ci rendiamo conto che non li mettiamo neanche nel piano iniziale, e quindi spesso ci sorprendono. Grazie. Grazie.